Veloce! 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 Penso un pozzo di salita! Veloce?! Veloce! Prende così! Bene! Antonio, chiedi un punto di piedi che non ti dà il ginocchio e non rimasti più. E' un punto di piedi per andare indietro. E' un punto di piedi che non ti dà il ginocchio e non rimasti più. BRAUCHIL A PERTORCE A PERTORCE E' UN SCHOOL BRAUCHIL A PERTORCE BALUX BALUX Togliela passare, presia, porca puttana! Berendezza, presia. Togliela passare. Togliela passare, presia, 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 presia. Buon esatto. 3 volte se pare il santo potere con il progetto io per andare indietro. Indietro ti mi comprimo. Buon esatto. Trocco la punta di piedi! Buon esatto. E' quello che salta di destra. Ho fatto bene! grazie grazie grazie